Salve mister, sono qui, Adriano Pastore, Napoli Magazine. Le volevo chiedere, proprio relativamente a diventare calciatori migliori alla fine di questa stagione, pronti via, partire bene e quindi scrollarsi di dosso, come diceva lei prima, anche la delusione. Quanto può essere importante per portare poi i ragazzi a fare una grande stagione? Sai, partire bene sicuramente da morale, da fiducia in tutto quello che stai facendo. Detto questo, ho visto partire a razzo e finire a... ecco, non voglio dirlo, quindi... Cioè diciamo che sicuramente sarà importante, sarà importante partire bene per l'entusiasmo. Però ripeto, non è questione di entusiasmo, è questione di lavorare, di lavorare bene, di fare le cose per bene e di creare qualcosa che sia strutturata per tutta l'intera stagione. Poi ognuno di noi vuole partire a 2000, questo è fuori dubbio, perché anche nelle staffette, o nei 100 metri, chi parte e stacca prima, ha possibilità di fare delle cose importanti. Come? Come ho detto prima, iniziare assolutamente bene e poi devi mantenere la situazione. Quindi diciamo che sarebbe più per la fiducia, per l'entusiasmo che si creerebbe. Ecco, è inevitabile che vogliamo iniziare bene, questo è chiaro. Grazie.